Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato dalla terza dal titolo Il Duca, vita avventurosa e grandi imprese di Federico da Montefeltro di Duzio Balestraci che abbiamo l'enorme piacere di avere nostro gradito ospite al quale io lascio subito la parola per che ci racconti di questo personaggio di cui quest'anno ricorre il seicentesimo della nascita. Prego Duzio, a te. Buongiorno, grazie a te, grazie agli amici di Italia Medievale. Sì, hai detto una cosa che mi ha fatto piacere, questo saggio appena uscito, eccolo qua, il Duca. Giusto stamani mattina ho ricevuto l'email dalla casa editrice La Terza e hanno esaurito la tiratura e quindi la prima edizione è andata esaurita e andiamo in ristampa. Lo dico con grande soddisfazione perché il Duca ha fatto capolino nelle librerie un paio di settimane fa. Quindi in due settimane hanno esaurito le scorte e andiamo in ristampa. Bene, il Duca, ovvero Federico da Montefeltro. Sì, l'occasione è stata quella del seicentesimo anniversario della nascita e era una vecchia idea quella di parlare di questo personaggio. Un personaggio che nell'immaginario collettivo è entrato un po' a far parte del mito altrettanto quanto della storia. In parte anche con una certa ragione. Se si è acquisito il mito ciò è stato dovuto al fatto che lui se lo è anche autocostruito e autoprodotto, sia ben chiaro, ma insomma non è una gloria assolutamente usurpata. per carità. La sua vita non si presenta tutta sfolgorante, non è un personaggio al quale dobbiamo mettere l'aureola dietro la testa né le alucce sulle spalle, ci mancherebbe altro, però è un personaggio di grande rilievo. Di che cosa si tratta? Cosa voglio dire personaggio di grande rilievo? Io in un capitolo proprio di questo libro parlo di laboratorio Montefeltro, nel senso che per me la storia di Federico applicata al Montefeltro, il suo modo non soltanto di combattere, ma il suo modo anche di governare e fra un attimo ci ritorno su questo tema, ha interessato molto per capire attraverso un personaggio che è un personaggio tipico esponente di quei principi nuovi di cui parla il Machiavelli, non a caso. Un personaggio che si presenta, si presta molto bene ad essere indagato e se da una parte ho scritto laboratorio Montefeltro mi sono un po' come dire peritato dallo scrivere Federico una cavia, non l'ho voluto paragonare a una cavia di laboratorio, però nel mio modo di approccio con questa figura c'era esattamente questo, riuscire a capire quanto questo principe nuovo è esponente di una serie di principi nuovi che caratterizzano il rinascimento italiano. Principi che siamo tutti abituati, principi di stati minori, il 400 è caratterizzato dal G5, il G5 sono i cinque grandi protagonisti della storia italiana del quindicesimo secolo, ovvero si dica Venezia, Milano, Firenze, il Papato e il Regno di Napoli. Aperta e chiusa parentesi di questi G5 l'unico stabile è Venezia perché poi Milano per l'amor di Dio che cosa non succede nel passaggio fra Visconti e Sforza nella rimessa in discussione degli Sforza e quanto. Firenze stessa che cosa non succede nella dialettica tra la famiglia dei medici e le istituzioni comunali repubblicane della città, la congiura dei pazzi e la cartina di Tornasole. Il Papato non ne parliamo perché il Papato oltre ad avere i problemi che ha e lo sappiamo bene cambia politica ogni volta che cambia il Papa perché ogni Papa si porta dietro i suoi interessi familiari, gli interessi della città o regione dalla quale viene, delle collegamenti con altre signorie in Italia e non ci dimentichiamo Papato in bilanciamento, in scontro, comunque sia in un rapporto dialettico con la Curia Romana. Quindi Napoli, figuriamoci, il problema degli Aragonesi è quello di aver conquistato, di conquistare una terra sempre poi, una conquista sempre poi rimessa in discussione dalla riottosità dei baroni, dei baroni meridionali, lo scontro con gli Angioini, gli Angio Durazzo, quindi figuriamo, l'unica stabile è Venezia. Intorno a questi G5 c'è un pulviscolo che io chiamo una rete connettiva in qualche modo, di entità statali minori, minori diciamo una serie B, quale possono essere la Repubblica di Siena, Genova sempre in bilico tra essere conquistata da quello, da quell'altro, da francesi, dai milanesi, poi si ritorna da sola e così via, Lucca e quanto di altro. E poi tutto il pulviscolo delle signorie medio-grandi, i Gonzaga, gli Este, i Montefeltro e delle micro signorie che stanno dentro queste signorie. Il complesso dell'Italia del 400 è tutto forché lineare, è tutto forché semplice come ci viene presentato nei libri di testo delle scuole medie e anche delle scuole medie superiori. È una situazione che più liquida di così non si può immaginare. Pace di Lodi, 1454, la grande stabilità finalmente nel G5, tra le grandi potenze, le quali poi prima di ricominciare a farsi guerra fra sé, come dire, si fanno guerra per interposti soggetti. In realtà si scontrano su altri campi. A me non piace mai fare i raffronti con la realtà del nostro tempo e delle nostre epoche, quando parlo del Medioevo, del Rinascimento, perché sono sempre dei confronti in qualche modo stressati, sono sempre in qualche modo surrettizi e anche un po' ruffiani per farsi capire. Tuttavia, in soldoni, per far capire che cosa succede, poi ritorno a Federico, tranquilli, per far capire che cosa succede, dopo il trattato di Yalta, non si sono scontrati direttamente il blocco comunista e il blocco capitalista, ma si sono fatti guerra per interposti soggetti, a partire dalla guerra di Corea fino al Vietnam e via e via e su a cose anche molto più recenti e vicini a noi. È un po' quello che succede dopo la pace di Lodi. La pace di Lodi, in realtà, che presenta l'accordo nel G5 tra i grandi signori, i grandi stati del Quattrocento, ha 120 soggetti sottoscrittori. 120. Vuol dire che intorno a questi grandi c'è quel pulviscolo di cui sto parlando, che poi è fondamentale per capire quello che succede, perché non si capisce bene solo quello che succede solo tenendo presente quel che fanno Firenze, Milano, Napoli, il Papato, Venezia, ma lo si capisce anche entrando all'interno di quello che avviene con questi altri soggetti. Il Montefeltro, e Federico da Montefeltro, o i Montefeltro come famiglia, sono, da questo punto di vista, dei soggetti importanti. Soggetti importanti perché, come dicevo, noi siamo abituati a pensare a questi personaggi, Federico da Montefeltro, quelli prima di lui, ma i Gonzaga, come sostanzialmente comandanti di eserciti. Per vinci, lo sono, ci mancherebbe. Questi vivono non tanto e non solo delle rendite dei loro stati e del prelievo fiscale dei loro stati o del prelievo economico dei loro stati. vivono facendo la guerra, vivono mettendo a disposizione la loro capacità e i loro soldati a qualcuno dei G5 o delle altre potenze, diciamo così, delle altre potenze intermedie. Da questo punto di vista, a me è interessato molto capire come il Montefeltro sia, in questo senso, un laboratorio. E come Federico da Montefeltro, che non è soltanto un abile combattente, è un abilissimo combattente, ci mancherebbe. Si fa le ossa con la scuola milanese, combatte con, impara con personaggi, con personaggi importanti, ci mancherebbe altro. Tuttavia ha a che fare con persone che si chiamano Bartolomeo Colleoni, insomma, per intendersi. O anche Consigismondo Pandolfo Malatesta, il suo arcinemico, che per un lungo periodo è il vero miglior condottiero che ci sia in Italia, prima che questa primazia gliela occupi effettivamente Federico da Montefeltro. Mi interessava questo aspetto. Soldati, comandanti di eserciti, d'accordo, ma comunque anche amministratori di Stato. Lo Stato di Sicismondo Pandolfo Malatesta è tale e lo Stato di Federico da Montefeltro è uno Stato, un piccolo Stato, complessissimo. Complessissimo perché all'interno di questo piccolo Stato il Montefeltro, che è una realtà composita da questo punto di vista. Perché noi si pensa al Montefeltro marchigiano. Sì, momento, no. Lo Stato dei Montefeltro comprende anche una realtà come Gubbio. E Gubbio si porta dietro un retaggio e un'eredità municipale importante. Si porta dietro una classe di imprenditori, di borghesi, di commercianti, di uomini da fare importante. Gubbio si porta dietro un contado che è molto più ampio, è molto più importante di quello di Urbino, che è, virgolette, scusate il termine non è usabile, ma lo uso, la capitale della contea Ducato del Montefeltro. Ecco, in questa complessità, già abbastanza marcata per questi aspetti banali, questa dicotomia banale che io presento, il Montefeltro presenta una quantità di micro signorie, gli Oliva e Carpegna e quanto di altro, che sono assolutamente riottosi al dominio della famiglia dei Montefeltro, che non fanno magari nemmeno parte giuridicamente del Ducato del Ducato di Montefeltro, che presentano uno scompigliato quadro dal punto di vista gius pubblicistico e delle istituzioni e che molto spesso, vedi Carpegna o altri come loro, guardano ai malatesta di Rimini, più che non a Urbino. A me interessava entrare all'interno di questa realtà e studiarla, capirla, cercare di rendere conto di che cosa fosse attraverso questa persona. E certo, è una persona che ha una sua dimensione notevole. È stato, come ho detto, presentato sotto un aspetto quasi di mito. Lui ci ha messo del suo. I panegiristi che parlano di lui, ne parlano in termini a tutto tondo, con delle espressioni roboanti. Lui ci ha messo del suo. Basta soltanto pensare che il suo fitosegretario, il Valtroni, è quello che scrive una sua biografia, che è la più bella di tutte, dico subito. Ma molto scarna, uno stile molto asciutto, è stato definito una biografia di servizio. Non sbrodola, sì, per carità, è un encomiasta, anche lui ci mancherebbe. Era segretario di Federico e lavorava per lui, che doveva scrivere. Quindi gli va fatta la tara, gli va fatta la cresta e tutto quello che vogliamo. Però la sua è una cronaca bellissima, lo ripeto, molto asciutta e di servizio. Perché? Gliela commissionava lo stesso Federico, che via via gli diceva, allora scrivi questo, 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 quello che abbiamo fatto. Perché? Perché poi tutto questo materiale andava a Porcellio Pandoni. Porcellio Pandoni, sì, il nome Porcellio è un po' così. I suoi genitori, un altro nome, che ne so, Beppe, Tommaso, Filino, no, Porcellio. E vabbè, che volete fare. Scriveva una biografia e una storia di Federico sotto forma di poema. Era un poeta perché si riteneva all'epoca che le grandi imprese, dei grandi personaggi non tollerassero granché la prosa, ma dovessero essere resi e rese sotto la forma della poesia. E quindi questi aspetti della poesia, che poi ci sono importanti per capire certe cose e avere certe notizie anche di Federico, ma che, come dire, stuccano anche un po'. Un esempio fra tutti, quello di Giovanni Santi. Il Santi è il padre di Raffaello. E il Santi scrive un poema, dalla rima, su Federico da Montefeltro. Io l'ho dovuto leggere tutto e vi assicuro che mi ci sono voluti quintali di Alka-Seltzer per buttarlo giù da quanto è pesante. Il nostro Santi è passato alla storia molto più giustamente come pittore, perché era un pittore non sprecevole, e come, come dire, fornitore di spermatozoi per creare, assemblare il nostro Raffaello Sanzio. Però sono, appunto, delle biografie che hanno il tono encomiastico, il tono della poesia, dietro le quali c'è lui, in grandissime parti. Poi la cronaca del Patroni è servita un po' a tutti, anche a tutti gli altri. Ma dietro c'è stato lui. C'è stato lui che si è autocostruito questo mito. C'è stato lui che ha portato a Urbino, nella sua corte, uno stuolo di scrittori, di umanisti, di poeti che lo incensano da tutti i punti di vista. Quindi sono tutte fonti sulle quali bisogna fare delle belle sforbiciate, bisogna fare dei criteri, delle tare e quanto di altro. Detto ciò, e sfrondato, lo sfrondabile, e tolto il toglibile delle superfetazioni encomiastiche che ci sono in queste fonti, è in dubbio che comunque sia Federico da Montefedio emerge senza dubbio come un personaggio di statura importantissima. Nel senso che non è stato quel grandissimo elaboratore di strategie delle quali a volte viene avvalorato. Non è stato questo. Però non è stato nemmeno un esecutore, nel senso banale e passivo del termine. È stato un interprete, il concetto è molto diverso, è stato un interprete delle grandi politiche che venivano fatte all'interno del G5 e che egli ha interpretato in maniera molto intelligente, molto saggia, con pacatezza, con oculatezza, con senso della misura, con il senso dell'equilibrio. Un capitolo del mio libro è intitolato In equilibrio su una ragnatela tesa su una cristalleria. Perché lui si muove davvero in questo modo. E ci riesce, nella maggior parte dei casi ci riesce. Certo, ci riesce, avendo presente un dato di fatto, un macro dato di fatto, bisogna mantenere l'equilibrio, l'equilibrio che si è stabilito con la pace di Lodi, perché l'equilibrio è un qualche cosa che tiene in piedi la situazione italiana, ma perché da questo equilibrio e da questa situazione italiana equilibrata dipende la sopravvivenza di piccole signorie come la sua. E qui c'è l'altro grosso interesse di Federico, che è sempre quello, logicamente, di salvare e preservare la dinastia e il Montefeltro come entità statale. Ecco perché a me è interessata molto questa figura, per capire proprio come, attraverso un principe nuovo come lui, si può, necessariamente questo ci convoca, allargare la visuale in queste prospettive, anche ad altri soggetti, capire che cosa succede realmente nella scompigliata, più di quanto non sembri, Italia, soprattutto del secondo, non che quella precedente fosse così pettinata, per l'amor di Dio, figuriamoci, il 400, possiamo dire che la morte di Gian Galeazzo Visconti nel 1402 crea la deflagrazione del 400, ma la seconda metà del 400 è interpretabile proprio alla luce di questo che sto dicendo e alla necessità di capire come questi principi nuovi, come la politica di questi principi nuovi, che non è soltanto la politica con la spada in mano, ma è anche la politica con l'amministrazione degli stati, dei piccoli stati, o con le relazioni diplomatiche che tengono con gli altri stati, e capire come questo rappresenta una cifra dell'Italia del 400. Il Montefeltro, inteso in questo senso ampio, come ho detto, umbro marchigiano, e Federico da Montefeltro rappresentano dei personaggi e dei soggetti estremamente utili per cercare di capire questa cosa. Duzzo, ma... Quindi dopo la grande... chiamiamola così, epopea comunale del 2300, il 400 si può definire il secolo delle signorie, dentro le quali si muovono realtà che sono comunque importanti, che non fanno parte del G5, ma che partecipano al quadro politico-militare di quel periodo. Assolutamente sì. Scusami, cambia un po' tutto, anche se in molti casi si mantengono alcune prerogative del... Ecco, il punto è questo. Il punto è questo, perché una delle cose importanti che viene fuori analizzando sia il G5, sia le piccole signorie, e fra un attimo farò proprio un esempio che secondo me è calzante relativo a Federico. È proprio costituito da questo... È logico, noi siamo tutti abituati a un certo dogmatismo scolastico, almeno quelli della mia generazione. Io, alla mia tenera età di anni settantaquattro, ovviamente ho avuto un primo approccio con la storia, vi potete immaginare quale e come, molto schematico, molto crociano, episodi, guerre, paci, trattati, principi, imperatori, papi, due scatole a mai finire e voler bene alla storia in quelle condizioni bisognava avere dei problemi psichiatrici in essere abbastanza rilevanti. Ecco, quello che è importante capire, è che il Quattrocento, che logicamente c'è il Medioevo, poi finisce il Medioevo, 1492, quel coro goliardico, che sollievo, che sollievo, è finito il Medioevo, è finito il Medioevo, incomincia l'umanesimo, poi ci saranno le altre epoche, bla bla bla, la cosa più clamorosa è quella del Settecento, l'illuminismo, poi arriva l'Ottocento che nega l'illuminismo, cioè tutte le le zone, tutti i passaggi vengono, le sfumature vengono completamente obliterate, e allora, non siamo molto abituati, se non all'interno degli addetti al lavoro, gli addetti al lavoro sanno benissimo tutto questo, ma diciamo, il pubblico colto, non specialista, perde quegli aspetti fondamentali della storia, che sono le sfumature, i passaggi, i toni di grigio, quando io insegnavo, dicevo ai miei studenti, il bello della storia è che non si lavora solo con il bianco e con il nero, si lavora anche nelle 50.000 sfumature di grigio che ci sono fra un colore e l'altro, e in queste sfumature c'è proprio nel Quattrocento un aspetto che è estremamente affascinante, cioè c'è il prosiego di quelle che erano state le istituzioni e le culture comunali, e l'affermarsi delle signorie come fase aurorale indiscutibilmente della formazione dello Stato moderno. Santo cielo, Firenze è il più clamoroso da questo punto di vista, ma non c'è soltanto Firenze, la congiura dei pazzi e in questo senso come dire la cartina di tornasole per capire questo aspetto fiorentino, un aspetto fiorentino che è cominciato un secolo prima della congiura dei pazzi, con la chiusura oligarchica, con l'atrofizzazione di quelle che erano state le istituzioni comunali, la partecipazione popolare non vuol dire non vi immaginate il popolo sulle barricate con le bandiere, si sta parlando di populus, ovvero sia i scetti borghesi per capirsi. Ma il Quattrocento rappresenta proprio questa sfumatura e questa dialettica, questa contrattazione nella costruzione del potere, questa negoziazione nella costruzione del potere fra ciò che c'era prima e ciò che si sta creando adesso. L'esempio classico di Federico. Eccomi qua. Federico va al potere nel 1444. è un figlio illegittimo del conte duca di Montefeltro, Giovanni Antonio. È figlio illegittimo, viene riconosciuto e legittimato, per cui nel caso che non ci siano altri figli legittimi sarà lui assolutamente senza problemi, bolla papale, a prendere la signoria. è solo che però Giovanni Antonio si risposa. Si risposa con una colonna che è nipote di Martino V, di Ottone V, Quinto Colonna e lei gli ha figli fra i quali Odd Antonio. Odd Antonio ha questo nome bislacco proprio perché è un nome di Oddone, il potente zio Papa e Antonio che era il nonno Antonio da Montefeltro. Bene, Odd Antonio va quando muore il padre e prende legittimamente la signoria e Federico ha invece nel frattempo assunto il potere, il comando della compagnia feltresca o feltria o come la vogliamo definire. Tra i migliori combattenti che ci siano in Italia, richiestissima, creata ben prima richiestissima e quando muore Ottaviano Ubaldini Bernardino scusatemi Ubaldini della Carda che era il comandante di questa compagnia il comando della compagnia va a Federico. Ci mettono un anno prima di darglielo e ci mettono un anno non a caso perché chi comanda l'esercito e chi ha il potere sulla compagnia militare ha in mano le leve dello Stato perché l'art business dello Stato del Monte Feltro è legato alle commesse militari e al fatto che gli uomini del Monte Feltro in grandissima parte fanno i soldati fanno i militari. Bene, quando va al potere Odantonio Odantonio è molto giovane è inesperto è un po' un caposcarico si circonda di gente di discutibile moralità tutti raccontano che compreso Pio II nei suoi commentari che Odantonio e questa banda di scioperati che si è messo intorno hanno come principale divertimento quello di andare in giro la notte a violentare le donne di Urbino e probabilmente anche vero Odantonio fa anche qualche cosa di grave che è forse meno ripugnante di uno stupro di una donna ma politicamente importante cioè mette pesantemente le mani su quelli che sono le prerogative fiscali pubbliche attenzione siamo in un'epoca in cui casse dello Stato e casse del Signore fanno hanno una creano una grossa confusione difficile capire dove finiscono le prime e iniziano le seconde tuttavia certi meccanismi di bilanciamento nel prelievo ci sono logicamente e lui sembra che abbia effettivamente esagerato mettendo le mani in quelli che erano diciamo così entrate fiscali pubbliche e insignorendosene e facendone e facendone e che cosa succede succede che questa situazione uno più uno più uno quali che siano tutti questi vari aspetti porta a uno scontento generalizzato in una notte di luglio di fine luglio del 1444 una congiura di Palazzo fa fuori Odantonio e i suoi i suoi amici lo scanna veramente fa una una financia e Federico non c'è Federico non c'è a Urbino in questo momento è fuori ma è sotto le mura di Urbino la mattina dopo sapeva di quel che succedeva è è difficile che ciò sia accaduto a sua insaputa questa l'abbiamo risentita in altri in altri contesti è difficile il fatto sì è che lui è lì non era presente al fattaccio però è lì e viene dicono i panegiristi acclamato immediatamente come salvatore della pace e gli viene chiesto prendi il potere tu perché qui se no ci scanniamo siamo alla guerra civile no non è così non c'è nessuna guerra civile o comunque forse ci sarebbe stata chissà probabilmente sì ma non è questo il punto il punto è un altro è che Federico che sapeva benissimo di quel che stava succedendo sapeva perfettamente che Odantonio stava andando a sfracellarsi sul muro e non ha mosso un dito per per evitare questa per evitare questa questa situazione lui quando arriva a Urbino fa immediatamente un patteggiamento nella pressa di potere ha una negoziazione nella pressa di potere con quelli che sono i ceti soprattutto appunto i ceti cittadini quelli che si riconoscono nel comune urbinate che con i quali è nei confronti dei quali è chiamato a sottoscrivere dei patti molto precisi molto precisi che chiedono i rivoltosi chiedono di rivitalizzare le istituzioni comunali di ricreare sistemi di bilanciamento fra il potere del signore nei confronti della della comunità e situazioni di autogoverno della comunità di riavere un protagonismo delle istituzioni comunali la stessa cosa la farà con Gubbio pari pari perché anche Gubbio deve essere negoziato il potere deve essere negoziato anche con con gli augubini c'è una differenza importante che fa capire la differenza fra Urbino e Gubbio i rivoltosi di di Urbino tra l'altro poi Federico da Montefeltro sostanzialmente manderà graziati quelli che hanno ammazzato D'Antonio il che gli procurerà soprattutto da parte dei nemici malatestiani l'accusa di Caino lo chiameranno il vero e proprio Caino che dice vedi era d'accordo sì vabbè lui lo sapeva di cosa stava succedendo e il fatto di mandare graziati quelli che hanno ammazzato D'Antonio è anche il tentativo di probabilmente credo immagino di non esasperare la situazione e di non lacerare la situazione urbinata più del necessario e di creare una ricompattazione e riconciliazione all'interno della città molto molto verosimilmente contratta il potere con gli urbinati e con gli ogubini la differenza qual è il comune di Urbino gli chiede sostanzialmente di ripristinare la legalità dei prelievi fiscali che D'Antonio aveva pesantemente intaccato e soprattutto di tagliare le unghie ai nobili che hanno un grosso potere Gubbio dei nobili ne importa quanto basta con Gubbio i patti hanno un'altra cifra ed è la cifra del garantisci la produzione garantisci i commerci i traffici la libertà di spostamento delle merci e Gubbio città comunale più borghese quell'altra una città comunale sì ma ancora fortemente caratterizzata da una presenza aristocratica che è molto forte appunto nel nel Montefeltro come Federico accetta tutto ovviamente in maniera molto saggia e sostanzialmente mantiene anche non è uno che poi sciurla nel manico e che si rimangia la parola la parola data e ci mette un po' prima di pubblicare questi questi atti non si lega le mani perché si lascia comunque clausole che in caso di necessità gli danno la possibilità di muoversi un po' come come gli pare e nei confronti di questa richiesta dei degli urbinati di tagliare le unghie ai nobili dice sì 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 sono d'accordo assolutamente con voi però ragazzi io non voglio prevaricare questa è una materia che compete alla giustizia questa è una materia che compete al podestà non al signore della terra piccolo problema il podestà lo nomina lui e quindi insomma è come dire un po' un modo un modo surrettizio però al di là di questo c'è una negoziazione del potere di qua e di là che è davvero un tavolo di laboratorio per capire la sopravvivenza di istituzioni comunali la vigenza di istituzioni comunali ma ho detto ho detto Urbino e Gubbio perché sono i più importanti ma poi c'è tutta una serie di altre di altre situazioni minori dal punto di vista diciamo così quantitativo ma dal punto di vista qualitativo estremamente importanti tutta una serie di piccole micro signorie o comunque comunità che hanno e mantengono delle prerogative in qualche caso addirittura prerogative giuridiche prerogative nell'amministrazione della giustizia che non è una cosa di poco conto quindi una negoziazione del potere che ci fa capire come questo scompigliato mondo del quattrocento presenti sopravvivenze di antiche prerogative giuspubblicistiche e istituzionali che devono entrare in interlocuzione nella costruzione della signoria e nella costruzione dello Stato moderno anche da questo punto di vista Federico e il Montefeltro sono un laboratorio dell'Italia del quattrocento perché non è assolutamente solo il caso di Federico e del laboratorio ma anche di altri casi e qui ancora una volta mi ripeto tutta questa materia ci convoca come sta convocando peraltro storici che ci stanno già lavorando lavorando da tempo per scrostare le semplificazioni che sulla storia politico istituzionale statale del quattrocento si sono accumulati in decenni e decenni di storiografia un po' semplificata senti io avrei veramente un sacco di domande ma poi rischiamo di tediare i nostri ascoltatori perché andiamo un po' troppo lunghi e quindi mi tengo le mie domande i miei dubbi che poi sostanzialmente sono appunto come ma in parte tu hai già risposto come un figlio illegittimo riesce ad arrivare al vertice del potere familiare ma mi hai presentato il quadro di una persona abile comandante militare perché questo tu l'hai sottolineato più volte ma anche un accorto politico una persona forse figlio del suo tempo possiamo dire così possiamo prenderlo sì assolutamente sì figlio del suo tempo ma c'è una cosa che a me preme molto se vogliamo se gli ascoltatori che ci sta guardando non non ci non ci offende le linee matri lineari ascendenti Federico ha dei delle persone che lo aiutano in maniera notevolissima nella gestione del potere e sono soprattutto due uno è Ottaviano Ubaldini della Carda Ottaviano Ubaldini della Carda è figlio di Bernardino molto probabilmente suo fratello perché Giovanni Antonio ha avuto Federico dicono le storie la moglie era sterile non poteva avere la moglie da una gentildonna quale su cui si è scatenato tutto in realtà è molto probabile che Federico sia figlio di Aura e di Bernardino Ubaldini della Carta ma Aura chi è? Aura è una figlia illegittima di Giovanni Antonio da Montefeltro ma perché l'ho chiamato Giovanni Antonio dal momento che si chiama Guida Antonio il padre si chiama Guida Antonio non Giovanni Antonio abbiate pazienza ma a 74 anni le frattaglie del cervello non funziona Guida Antonio chiedo scusa per il lapsus anche per quello che ho detto prima Aura è la figlia di Guida Antonio da Montefeltro è la figlia di Guida Antonio e quindi Federico è il nipote di Guida Antonio e non il figlio ancorché illegittimo lui ha dei due collaboratori formidabili uno è Ottaviano Ubaldini della Carta che è figlio di Bernardino e l'altro l'altra importante diciamo io ho intitolato un capitolo un trono per due perché il trono forse dovrebbe essere un trono per tre per la verità perché accanto a quello di Federico c'è quello diciamo così in termini di collaborazione di del nostro Ottaviano e della sua giovanissima seconda moglie ovvero sia Battista sforza quando Federico rimasto vedovo sposa Battista Battista ha tredici anni non ci stupisce all'epoca è un'età in cui si va tranquillamente tranquillamente in in sposa ma questa ragazzina di tredici anni e non è la sola molte donne della sua età nelle corti si dimostrano come come lei è una che ha una personalità incredibile una forza incredibile un'intelligenza notevolissima a tredici anni che Federico viene subito immediatamente richiamato e risucchiato nelle imprese militari con il papato con Napoli e quanto di altro è lei che regge il Montefeltro nei lunghissimi momenti in cui gli manca in cui manca manca Federico è lei che regge il Montefeltro quando in una certa occasione il Malatesta Sicismondo Pandolfo Malatesta crea problemi con un castello controverso tra il Montefeltro e il Malatesta lei chiede aiuto allo zio che è lo Sforza di Milano il quale gli risponde dicendo ciccia tabona per piacere non piantare casotti perché non voglio che si rimetta in discussione l'assetto di questa regione e poi soprattutto ti faccio presente che questo castello non è così sicuro che sia che sia vostro potrebbe anche essere degli altri apriti cielo spalancati terra che cosa non scrive questa ragazzina allo zio invelenita manda delle lettere di fuoco e di veleno fin quando poi alla fine lo Sforza dice vabbè boh sta buona manda giù un contingente un peacekeeping per capirsi per una forza di pacificazione e di cuscinetto per ristabilire la situazione questa ragazza ha una forza d'animo incredibile va negli accampamenti segue il marito negli accampamenti vuole vedere i combattimenti va sul campo di battaglia perché vuole vedere i combattimenti vuole vedere i combattimenti di un assedio tant'è vero che poi quando Federico conquista la città che è assediata quando fa il suo ingresso triunfale in questa città la vuole accanto entra con lei a cavallo con lei e questa muore giovanissima di polmonite è un personaggio incredibile è veramente un personaggio incredibile ma poi non è che si limita a questo è quella che dà vita al monte di pietà è quella che tiene rapporti con le istituzioni ecclesiastiche dello Stato è quella che promulga gli statuti di Urbino che ancora nel Cinquecento quando lei è morta da Mo vengono chiamati gli statuti della Contessa ancora Contessa perché Federico da Montepetro diventerà duca soltanto nel 1474 e lei muore nel 1472 come detto di polmonite Battista Sforza è un personaggio incredibile quando si scrive la biografia di un personaggio il rischio forte è quello di innamorarsene di innamorarsi di questo personaggio non si fa mai assolutamente non si fa mai quando uno se ne accorge deve immediatamente richiamare e fare un passo indietro io non mi sono innamorato di Federico da Montepetro ma non mi vergogno a dire mi sono innamorato perdutamente di Battista Sforza che oltretutto doveva essere bella come il sole se rende l'idea quel ritratto che gli ha fatto Piero della Francesca doveva essere bella come il sole intelligente fino all'inverosimile con una forza d'animo incredibile una capacità un adolescente un adolescente 13 anni ma quando muore non è più adolescente ma una giovanissima una forza incredibile quindi Federico ha avuto molti suoi pregi la maggior parte i suoi pregi ma ha avuto anche delle sponde che lo hanno aiutato non in maniera determinante probabilmente ma in maniera importante sì a diventare il mito che è diventato il grande signore che è diventato il personaggio che meritatamente ancorché sfrondato delle alucce è tolta è tolto il nimbo ha il personaggio che occupa meritatamente il posto nel panteon dei grandi italiani del rinascimento del nostro paese sintesi perfetta quindi ci aspettiamo presto di vedere una bella riduzione cinematografica di questo affascinante personaggio non sarebbe bello l'importante sarebbe trovare un attore che si fa scavare e quello rimarrebbe il problema io ti ringrazio tantissimo e prima però ricordo ai nostri videoascoltatori il titolo di questo libro che ovviamente devono correre in libreria ad acquistare che è Il Duca vita avventurosa in grandi imprese di Federico da Montefeltro appena pubblicato dalla terza ovviamente scritto da Duccio Balestracci che abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere con noi oggi e che io ringrazio tantissimo mentre ai nostri videoascoltatori ricordo di seguirci sempre sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troveranno insieme a questa videopresentazione anche tutte quelle realizzate fino ad oggi grazie ancora Duccio grazie grazie a te grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a qui buona giornata a tutti grazie a te